Cos'è il narratore esterno? È una tipologia di narratore in cui l'autore decide di non partecipare attivamente alla storia, ma descrive i fatti nella storia narrata dall'esterno. Abbiamo così il narratore esterno. Cos'è il narratore interno? Abbiamo già visto nei precedenti video la differenza fra autore e narratore. L'autore è colui che scrive la storia, il narratore è colui che racconta la storia. Non necessariamente devono concidere. A volte però l'autore può decidere di partecipare attivamente alla storia e in quel caso abbiamo il narratore interno. Ciao al prossimo video! Vi aspetto!